e buona prima ragazzi sanitario con il secondo prossimo sono con il video sempre sul tuo manager anche oggi andremo ad analizzare una tattica che ha funzionato molto bene all'interno di f23 la tattica in questione è il 4141 striker even che sono andate a testare con i manchester city devo dire che gli striker even di the least asember sono veramente fortissimi su fm 23 perché sono molto solidi e permettono soprattutto di fare tantissimi gol al centro avanti e quindi è anche una tattica divertente da testare con qualsiasi squadra che sia come sempre la prima cosa che andiamo ad analizzare sono le statistiche dei calciatori che ci dicono carling gol è il capo canoniere della stagione con 169 gol fatti per lui 61 presenze tutte le titolare 169 gol fatti e 11 assist con un xg pari a 106,01 in champions abbiamo ben 27 gol in premio ne abbiamo 105 e poi ne abbiamo 18 in FA Cup e in Carabao Cup e ringolando ovviamente al calciatore con il voto medio più alto pari a 9,29 che ha ottenuto il maggior numero di assist è bernardo silva con 49 assist per lui 47 presenze titolare 3 da subentrato 16 gol e 49 assist il calciatore con la migliore percentuale di passaggi completati ederson con il 92 per cento che è stato letto più volte uomo partita erling goland con 44 premi vinti natana che è il calciatore con il maggior numero di ammunizioni mentre debruin grilish canselo e ruben diaz sono stati espulsi una volta a testa nelle statistiche non è comparso Sergio Gomez che ha fatto molto bene perché in 46 presenti totali ha fatto 30 assist e 3 gol anche fuori ha fatto molto bene perché per lui 41 presenze totali 18 gol e 21 assist 42 sono le presenze totali invece i debruin e per lui 14 gol e 17 assist anche Kovac ci ha fatto molto bene perché in 35 presenze da titolare 8 da subentrato ha fatto 13 gol e 18 assist quindi abbiamo Alvarez che con 42 presenze totali realizza 12 gol e 10 assist per quanto riguarda le competizioni vinciamo la Premier League vinciamo la Champions League vinciamo la Supercoppa UEFA vinciamo l'FA Cup vinciamo la Carval Cup e perdiamo la Community Shield arrivando al campionato vinciamo la Premier League con 112 punti facendo 37 vittorie e un solo pareggio 164 gol fatti e 27 reti subite siamo nettamente il miglior attacco ma non la migliore difesa per una rete subita siamo la squadra con la miglior differenza reti pari a 137 per quanto riguarda le statistiche della squadra siamo quella con più due agli aerei vinti con la più alta percentuale di contrasti ai re vinti pari al 71 per cento con il maggior numero di ammunizioni con più punti a partita pari al 2.95 una stagione praticamente perfetta la squadra più in forma più in forma in casa con più parite di fila con gol ovvero ogni partita disputata abbiamo segnato con più parite senza sconfitte 38 perché abbiamo fatto una stagione da imbattuti ma la squadra ovviamente con più gol fatti con più gol fatti a partita pari a 4.32 con più expati gol se sopra le aspettative con più expati gol se a favore con più expati gol se non da rigore con più expati gol se non da rigore nei 90 minuti con il maggior numero di cross riusciti in percentuale con più cross riusciti con più gol su calcio d'angolo pari a 35 con più occasioni create con più tiri a favore con più ti riporta con più tiri in porto in percentuale con la percentuale realizzativa più alta con più tiri a partita, una media di 26 tiri a partita, con meno reti subite sul calcio d'angolo, pari a 0, con meno tiri subiti, con meno tiri in porta subiti, con meno passaggi tentati contro, con meno passaggi completati contro, con meno passaggi all'avversario per azione difensiva e con meno passaggi a una tre quarta offensiva subiti. Per quanto riguarda i nostri calciatori abbiamo Holland che primeggia la classifica dell'uomo partita, quella della media voto, quella dei gol fatti, quella dell'expet di Wolves, quella dell'expet di Wolves sopra le aspettative, quella della media gol per minuti, ovvero un gol ogni 30 minuti, quella dei tiri, quella dei tiri in porta, quella dei tiri nei 90 minuti, poi abbiamo Bernardo Silva che è l'assistman del campionato, compare anche negli assist nei 90 minuti e nei passaggi decisivi, Sergio Gomez lo abbiamo nei passaggi chiave nei 90 minuti, Bernardo Silva torna nei passaggi decisivi a palla attiva, nelle occasioni create, Holland in quella dei fuorigioco, Bernardo Silva nell'expet di assist, Holland nell'XG non da rigore, nell'XG non da rigore nei 90 minuti, Bernardo Silva nell'expet di assist in gioco aperto, Holland nei fuorigioco nei 90 minuti, Sergio Gomez nei cross completati nei 90 minuti, Bernardo Silva nei passaggi decisivi a palla attiva nei 90 minuti, Walker nei passaggi progressivi nei 90 minuti, Bernardo Silva nell'expet di assist a palla attiva nei 90 minuti e infine Alvarez nel cross completati a palla attiva nei 90 minuti. Per quanto riguarda la tattica, come visto prima, è un 4-1-4-1 dove in porta abbiamo un portiere libero con i compiti difensivi che deve correre meno rischi e fare contrasti più duri. I due terzini sono due esterni invertiti con i compiti di supporto, tutti e due devono correre più rischi, diventare di più e tirare di meno. La coppia di centrali è una coppia formata da due difensori che impostano con i compiti difensivi, tutti e due che devono dribbare di più e tirare di meno. L'unico centrocampista sostanzialmente è un mediano con i compiti difensivi che non ha istruzioni alluntive. I due sottopunta sono due centrocampisti offensivi con i compiti di attacco, tutti e due che devono muoversi negli spazi. I due laterali alti sono due ali invertite con i compiti di supporto che devono andare avanti appena possibile e stare più larghi. Il terminale offensivo è un centravanti che deve fare passaggi più corti. Come mentalità abbiamo offensiva, in fase di possesso abbiamo un'ampiazza d'attacco abbastanza larga. Si gioca a pala negli spazi, concentrando il gioco sugli esterni cercando le imbucate centrati. Lo stile dei passaggi è più corti, con un ritmo di gioco altissimo. Nei altri quarti si fanno cross misti e si affronta la difesa palla al piede. In fase di transizione si fa pressing a tutto campo, contropiede, la si passa velocemente e la si lancia bassa. In fase di non possesso invece abbiamo una linea difensiva molto più alta con una linea di pressing alto. Si fa pressing estremo, si impediscono i passaggi cuore e portiere, si fanno contrasti aggressive e si chiede di stare più alti. Come lati positivi abbiamo le zone a cui sono scattolite reti segnate, area di rigore centro, abbiamo una forte influenza, attacchi in altre parti offensiva, conclusione in altre parti offensiva, percentuali di passaggi decisivi, reti da tiri dalla distanza, reti da tiri all'interno dell'area, passaggi nell'area di rigore avversaria, attacchi in altre parti offensiva centrale. Come lati negativi abbiamo le zone a cui sono scattolite reti subite, area di rigore centro, la provenienza degli assist delle reti subite, area di rigore, rete avversaria da tiri da lontano, rete avversaria tiri all'interno dell'area, palloni persi, attacchi avversari in altre parti centrale. L'occupazione del campo è la seguente, abbiamo tutte le zone offensive ricoperte con una doppia linea di centro campo abbastanza incostudita, con una linea difensiva che copre sostanzialmente tutte le zone di difesa. Per quanto riguarda la light map siamo ovviamente alla squadra di sinistra, possiamo vedere che il portiere sta distante dai pali, abbiamo la linea difensiva che è in linea sulla linea di centro campo, rimanendo anche stretti tra i vari ruoli, vediamo che il terzino sinistro è vicino al difensore centrale, il difensore centrale di sinistra è vicino al centrale di destra, il centrale di destra è vicino al terzino destro. Il mediano da filtro rimanendo fisso davanti alla difesa, in modo tale da impedire ripartenze per via centrale, anche perché abbiamo i quattro sottopunta che sono belli spinti in avanti e sono molto stretti tra di loro, vediamo i due centrocampisti offensivi che sono molto vicini con i due esterni che a loro volta sono già entrati bene dentro campo e sono molto vicini ai trequartisti, con il centro avanti che rimane molto vicino ai due sottopunta, garantendo quindi delle triangolazioni nello stretto con passaggi molto corti per arrivare velocemente poi in avanti. Ovviamente si vede questo buco di centrocampo perché si difende sostanzialmente con uno e mezzo perché abbiamo la linea di quattro dietro con la linea del quattro sottopunta e il mediano che rimane qui nella terra di mezzo dove viene lasciato completamente da solo e quindi in fase difensiva bisogna essere rapidi poi ad abbassarsi e a formare questo 4-5-1. In fase difensiva abbiamo il 4-4-2 dove abbiamo ovviamente la linea A4 dietro con il centrocampo che rimane molto alto, abbiamo il mediano che è qua in mezzo con uno dei due trequartisti che si è andato ad abbassare a formare il secondo mediano e i due esterni si sono andati ad abbassare a formare appunto gli esterni del centrocampo A4 con uno dei due centrocampisti offensivi in questo caso De Bruyne che rimane alto a fare pressione anteriore con Erling Golland. In questo caso vediamo che abbiamo una linea di troppo tra difesa e centrocampo perché siamo molto lunghi e quindi qua passano tutti i palloni non avendo un filtro maggiore. Anche perché in questo caso la palla è stata lanciata lunga sull'esterno e quindi essendo una palla lunga si ha tempo poi di svivolare e andare a chiudere il portatore di palla. Ma se si fosse giocata più o meno al centro con la palla che ad esempio partendo da dietro finiva al 4 loro e andava subito in verticale a cercare questa imbucata con un filtro che non c'è perché sia molto larghi tra i centrocampisti e molto lunghi tra centrocampi difesa, una palla verticale taglia in due la linea di centrocampo, arriva al 30 e in questo caso la difesa non ha modo di uscire perché se in questo caso Ruben Dias uscisse ci sarebbe il 21 che attaccherebbe la profondità alle spalle con Walker che dovrebbe abbassarsi in diagonale e non farebbe in tempo perché difenderemmo troppo basso in questo caso e quindi una palla filtrante poi farebbe male perché manderebbe per tu Juan Ghe Chan dovrebbe essere il 21 contro Ederson. Quindi in questo caso serve che il centrocampo si compatti più dietro o che comunque la linea difensiva si alzi maggiormente andando a creare in questa zona la linea difensiva con il centrocampo in questa zona e le punte che rimangono in questa zona difendendo dietro la linea della palla con un'impostazione loro con un 3-2 che è abbastanza sterile perché se mettiamo due punte poi riusciamo tranquillamente a pressare e a impedire le giocate centrali forzandogli la giocate sulla fascia risultando così più compatti in fase difensiva. In fase offensiva invece ci mettiamo con un 2-3 con 3 sottopunta e due punte quindi abbiamo due difensori centrali con i due esterni invertiti che entrano dentro il campo a fare la linea 3 con il mediano. Abbiamo in questo caso l'esterno di destra che si è andato a inserire e a fare la seconda punta insieme a Oland mentre l'esterno di sinistra si è inserito per i due centrali a fare queste 3 sottopunta composto da alla sinistra, trequartista e trequartista. Avendo così tanta densità in verticale e cercando sempre questa palla filtrante per andare a tu per tu con il portiere senza allargare il gioco perché siamo molto bloccati in questa zona centrale del campo. Anche perché il gol lo si fa per vie centrali quindi qua si va a estremizzare questo concetto. Per quanto riguarda il centro dati possiamo vedere che avevamo gol fatti a partita 4.32, expected goals non da rigore 3.16, goals subiti a partita 0.71, expected goals subiti a partita 0.86, tiri a partita 26, tiri in porta 46.36%, passaggi completati 82.30% e contrasti vinti 72.13%. Per quanto riguarda il calendario possiamo vedere che la Community Shield la perdiamo ai rigori dopo un 2-2 contro l'Arsenal. Ad agosto abbiamo tutte vittorie, a settembre abbiamo tutte vittorie e ad ottobre abbiamo tutte vittorie, a novembre abbiamo 3 vittorie e una sconfitta in Champions, a dicembre abbiamo tutte le gare ufficiali vinte, a gennaio abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in Carabao Cup, a febbraio abbiamo tutte vittorie, a marzo tutte vittorie, ad aprire tutte vittorie tranne un pareggio in Champions, a maggio tutte vittorie tranne un pareggio in Premier e a giugno abbiamo tutte vittorie. Per quanto riguarda la Carabao Cup iniziamo al terzo turno contro il Cambridge e passiamo per 5-0, al quarto turno superiamo per 6-3 il Charlton, ai quarti di finale battiamo per 4-1 il Fulham, in semifinale battiamo con un 10-2 complessivo l'Aston Villa, mentre in finale battiamo per 3-1 il Tottenham a Wembley. L'FA Cup inizia a sua volta al terzo turno contro Rotterdam e passiamo per 3-1, al quarto turno battiamo per 5-1 il Bolton, al quinto turno battiamo per 7-0 il Charlton, ai quarti di finale battiamo per 4-0 il Brighton, in semifinale battiamo per 6-0 il Manchester United e in finale battiamo per 5-3 il Liverpool. La Champions League invece inizia nel gruppo A, composto da Red Bull di Salisburgo, A e Catene e Stella Rossa, giurone molto semplice dove passiamo con 15 punti facendo 5 vittorie e una sconfitta, 32 gol fatti e 8 reti subite. Come testi di serie ci troviamo il Feyenoord alle ottavi di finale, passiamo per un 10-5 complessivo, ai quarti di finale battiamo per un 7-4 complessivo il Milan, in semifinale battiamo per 6-2 complessivo il Barcellona, mentre in finale travolgiamo per 6-3 il Real Madrid. Per quanto riguarda un po' di gol fatti vi farei vedere il set a 3 rifilato al Feyenoord. Passiamo in vantaggio al ventesimo con Stones che imbuca Kovacic, va sulla linea di fondo, mette il pallone in mezzo e Holland stacca da solo in area di rigore. Il Feyenoord trova il gol del pareggio sull'audi destra con Stengs che mette il pallone in mezzo, Timber passa su Rodri e segna sul palo più lontano. Torniamo in vantaggio da Pallena attiva, calcio d'angolo battuto divinamente da Bernardo Silva e Holland stacca ancora di testa. Il Feyenoord trova ancora gol del pareggio, sempre dall'audi destra con il pallone giocato in mezzo e Jimenez si trova in area di rigore, pronto per il tap in vincente. Torniamo ancora in vantaggio, lancio e imbucata per il via centrale di Ake che trova Kovacic e a 2x2 col portiere, non sbaglia, ancora gol da calcio d'angolo, sempre colone che si fa trovare sul primo pallo pronto a metterla dentro. Il Feyenoord accorcia le distanze con Jimenez servito dall'out di sinistra, poi noi troviamo il gol da calcio di rigore che ci porta la parita in discesa. Gomez recupera palla a centrocampo, trova subito l'imbucata per Alvarez e segna il sesto gol, mentre il settimo arriva al novantesimo scoccato con Foden innescato sull'audi destra, va a superare Bailov tranquillamente. Come ho detto in subito non se ne vedono molte perché al massimo abbiamo preso 3 gol, quindi vedrei il 6-3 in finale contro il Real Madrid. Passiamo in vantaggio noi con un'azione che parte da dietro e poi si imbuca per via centrali Kovacic che apre in due la linea difensiva del Real Madrid. Il secondo gol arriva ancora da calcio d'angolo, questa volta Oland si mette sul secondo pallo e incorna perfettamente. Guardiol scarica a Gomez che dalla distanza si va a sigillare un bolide che supera così il portiere avversario. Quarto gol arriva con Ruben Dias che guardate quanto è in avanti e alla fine va a segnare addirittura Guardiol che è un difensore. Ha ancora un'incornata di Oland perfetta dal secondo pallo su calcio d'angolo. Il Real Madrid dà segni di vita con Vinicius Junior innescato in mezzo da Chouameni. Secondo gol del Real con Vinicius Junior che sulla sinistra scarica indietro, Modric fa girare Chouameni dalla distanza e trova Ederson che non è posizionato benissimo. Il sesto gol nostro arriva nella ripresa con Alvarez che mette in mezzo, Oland scarica dietro, Rodri lasciato completamente solo, va a segnare il gol della distanza. L'ultimo gol del Real arriva con Vinicius che dall'alto di sinistra mette il pallone in mezzo, Modric va completamente a destra e trova Carvajal. Quindi questo era il 4-1-4-1 Strike Raven. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete, non ce ne vediamo, è bella raga. Ciao!